Penultima uscita interna per un celano ormai rassegnato ad una retrocessione nell'aria da tempo e la mestizia si annusa anche in una tribuna quasi del tutto sprovvista di spettatori Cerca invece tre punti per la salvezza matematica il Cupello senza troppi assilli forte dai nervi distesi nonostante la sortita castellana del dodicesimo quando Carrato da fuori trova la potenza senza controllo per fortuna ospite Quattordicesimo, occasionissima Cupello con D'Adamo che ha un'autostrada davanti ma un piattone non tarato spedisce il cuoio fuori pista Ma noi procediamo oltre e ci trasferiamo al ventunesimo quando Lennart gira di prima però non dà profondità alla conclusione E così gli ospiti decidono di cambiare marcia nei pressi della mezz'ora con Maio che la profondità invece la trova servendo Monachetti al diagonale letale Partita indirizzata con i biancazzurri che rinculano paurosamente sino a subire il secondo gol in chiusura di tempo quando un preciso cross di Antenucci trova l'inzuccata di Maio 2-0 e tutti negli spogliatoi La ripresa riproporrà lo stesso squallido filone Si vede la luce al terzo quando Ciccarelli ci mette il cuore e crossa per Baruffa che non trova lo specchio Torniamo quindi al buio Castellano con avvantaggiato per Antenucci al colpo di testa a lato Ritmi blandi e parecchie accademie ormai al piccone e un nuovo colpo di testa questa volta Griffato Maio che serve per mostrare l'atletismo dell'estremo celanese Cocuzzi 19esimo Monachetti una vera spina nel fianco per la difesa biancazzurra fa le prove generali per una nuova rete ma non trova la porta 26esimo cross e controcross al cospetto di un impotente Cocuzzi che non può far altro che guardare avvantaggiato fare tris Monologo ospite che continua al 32esimo quando un nuovo colpo di testa firma di Antenucci in questa occasione non affonda nel burro locale Appuntamento solo rinviato per il poker del Cupello che arriva al 33esimo quando un bel tiro di collo scagliato dal solito Monachetti non lascia scampo al numero 1 celanese il commento di fine partita oggi crediamo sia superfluo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti